come se che è impossibile cascare armado si ma arrivano da più latino sa odono nome da 2 non vorrei cavolate ma da 2 si da 2 non c'è proprio un posto in cui casca acqua chi che c'è c'è chi non ho questo che ha c'è chi non abbiamo tutte le armi daniel oddio che schifo no vabbè ma che c'è va così dai ma sta nella squadra mia? si 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 almeno questo ma che schifo dai guarda quanti lanciarazzi sto a pia tra l'altro che tra l'altro so pure al massimo c'è qualcosa che non bugga io continuo a pia lanciarazzi c'è sta un cecchino che c'è stava a cecchino c'è stava ma pure loro c'hanno le armi si ecco qua che schifo si vabbè con l'rpg l'rpg allora che no vabbè non va non ha senso sulle fuoco del veicolo non ne ho la più pallida idea di come si zoom ah ma posso cambiare l'arma mentre qualcuno ha idea di come si zoom che diverti me ma dove stai Daniel? ah te sopra so attivo qua ma che palle come hai fatto? io non ti vedo no spieghi come hai fatto ti prego eh un bel po' un bel po' dei giri vabbè io mi so suggerire ok bene ci ho provato pure io pensavo mi chiamo come se la cava il nostro pancino no che cazzo ma non l'ho visto io ah mi dicono che è divertente sta modalità eh dai su che merda continuiamo a malincuore questo sarebbe un LTS normale soltanto che una delle due squadre è svantaggiata tipo noi che ci dovremmo fare corse non possiamo perché siamo bloccati su una piattaforma così in bella vista a tutti che ci cecchinano come le paperelle non so se c'è presente Giovanni Mucciaccia io quasi quasi manco violinzucci ma per davvero ma ma io sapevo come se zooma magari sai quanto quanto sarei felice ma perché te muovi? perché ti muovi? loro avranno lo zoom sicuramente quindi ho me esposto oppure c'erano lanciarazzi mi blastano direttamente con quello e io lo trovo che palle allora comandi non è e se si zoomasse col pad? no col pad della PS4 non si zooma no proprio non si zooma oh buono allora postazioni visuale c'entra automaticamente su veicoli movimento destra in prima persona mettiamo de no perché mi dà il volto a stomaca stomaco in prima persona mettiamo de no telecamera ragdoll in prima persona mettiamo de no c'entra visuale automatica su veicoli che vuol dire? cofano veicolo ma questo no visuale fuoco del veicolo relativo al veicolo ma di che cosa stiamo parlando? schermo mirino si insieme mirino semplice rada in effetti su schermo davanti a uccisioni non uccidono perché sto fermo buono guarda qua che casino che sta a fare ma te ma te te fa zoom e daniel no me la si a me me fa la zoom con la con la freccetta su con la freccetta su perché non te l'ho chiesto direttamente non lo so no perché su ps3 c'è stato proprio l'impostazione quindi sono andato a vedere che nabbo vabbè grazie al cavolo che quello ha pesciato che bella partita quanto ci se ne è fatto? due ma sto buono vabbè grazie daniel mi sta a fare un po' le sorti semplicemente andando sulle impostazioni vai pancino vai pancino facciamoci una corsa adesso te devo vedere te devo vedere come fai a scendere dal coso delle paperelle perché io non voglio essere un bersaglio dal coso delle paperelle staremo a vedere il papere ok basta momento momento che hai finito momento che hai oddio io sto a limbo cioè nel senso inviglio va a finire che me muovo e casco una volta pure io che è colos eh una volta su ps3 sono spawnato cadendo che bello ehm daniel dove stai ok ah sei andato là ok ok vabbè oh ce la facciamo che dici ma poi dove sei andato non sarei così daniel dove sei andato poi sto salito qua che spettacolo ci facciamo un po' di triad che spettacolo che hai scoperto daniel ma tutti questi scaletti porco dena che giro poi va sto pezzetto qua di triad eh sì è un po' un casino però vabbè funziona funziona cioè stanno a shottar ma dove stanno stanno la ghio cazzarola sì vabbè ma guardali sì vabbè mi sono suicidato come ma non l'ha colpito il colpo mio non ha toccato la colonnina loro non mi vedono mi sa no vabbè andrea devo fare un attimo uno screen salva istantanea ok mo te la mando aspetta guarda che stupido l'ha messo sotto oddio che nabbo non lo vedo calcola eh eccolo oddio che cosa è successo ah ok mo la vedo aspetta eh qua però se mi si mettesse a fuoco so ultimo cioè ultimo cioè ultimo nel senso puoi salire puoi salire per favore senza magari morire vai bravo ok lui è risalito allora ragioniamoci ah vedi lui vola come un coglione casca pettera si rotola tartaruga va vicino ai porcellini insurgent perfetto adesso se ne va questo non so cosa fa se ingroppa i porcellini insurgent lui insurgent ok va bene così perfetto adesso ma stiamo a perdere eh purtroppo si se non fanno niente io provo a scende magari senza vabbè avremmo perso comunque fammi vedere che mi ha inviato allora devi fa caso alla schermana aspetta 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 allora eh qua eccolo vediamo un po' guarda la classifica ok me la sta a scaricare dai dov'è su ma che mi ha inviato il buffering per caso il gif oh me lo fa vedere oh me lo fa vedere ah eccolo aspetta eh dimmi quando inizia è iniziato ok ok vabbè tanto che sto a nascoste quindi andiamo forza no ho sbagliato ma che è tutto sto tempo vabbè vediamo questo fantastico sfondo cioè ma dai su ma è lezzo è lezzo è lezzo ecco di nuovo lo fai vedere no me lo vuole fa bene ma che è la classifica colorata eh te dico guarda ci sta tipo uno primo poi gli altri due stanno stanno tipo sparsi aspetta fammi vedere da qua ah è vero porco della senza che aspetto che carica l'immagine vedo direttamente quello ma chi è questo nemico o amico ah è amico è amico allora qua non c'è stato proprio nessuno oddio l'ho ucciso questa è laggiù ma che cazzo e dai e basta madonna fatemi giocare e uno no ma piado un pio no vabbè quante volte lo devo colpire fatemi capire oddio quanto ma piado oh volevi oh stiamo a vincere noi strano volevi lezino io devo notti po' mazza di due o tre infatti sei prima ok 2 conto ma se no le li 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 Guarda come si rotola Oddio, guarda quello Donne Tra la giuncolonia Ma come famo, dai Possibile Ah, guarda, io vedo lui Però non vedo quell'altro Nooo Si, ciao Buonanotte A me se vuoi piacere A me se vuoi piacere Mi scende, dico subito Che da te non ci vengo Ma vincitui tanto, Andrea o no Ma fammi vedere, no, stanno a vincitore A me mi segna Stanno a vincitore Perché sta in cima che è il blu Ah, questi bug Andrea non scenderla perché quello là le pia da... Ah, me pia da là pure Sì Non voleva lui Sta sopra il palazzo Ok Fai il giro, Andrea Fa il giro e sali da dove avevamo fatto quella volta Il giro? Devi... Eh, da dietro Oh, attenzione Ma come ho fatto sto... Qualcuno io ho mostrato Io ho mostrato il culo Il culo Il culo Due uccisioni Hai fatto Che poi il totale tre E loro so tre Va bene Tutto, tutto normale qua Tutto normale Un culo Ci stanno a fare il culo Eh, da Agnel, ci stanno a fare il culo 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 Quante volte abbiamo vinto? Una? Zero? Più o meno Non me lo ricordo Chiudo Chiù, 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 chiù Chiù, chiù, chiù Chiù, chiù Chiù, chiù, chiù Chiù, chiù, chiù Unso 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 Hai regato, no, io mi devo buttare subito I paperelli Fanno subito il set Oddio, ecco qua Ma dai Gapaperelli Ho schippato direttamente la linea E so cascato oltre Cioè, proprio verso l'infinite Oltre Che Oddio pure a me Pure io adesso li vedo tutti divisi I nomi Oh c'è un tizio qua C'è un tizio qua Sì è vero Sta in cima Sta in cima Sei na No Ma perché è così munso Sto gioco Io non capisco Chi sta vincendo C'è c'è un rosso Un rosso sopra E poi il blu sotto E poi i nuovi rossi Che cazzo è sta vincendo A te come la grassilica Uno rosso Tre blu e due rossi Guarda quant'è un uso Ah va Guarda quant'è un uso Infarto Infarto Che balle Che gioco di merda Io mi so divertito molto in questo LTS Te Daniel Io anch'issimo Anch'issimo Ci tocco io Anch'issimo Io anch'issimo Oddio Mi riesco a rire come si deve Anch'issimo Te non è che c'hai l'anca Te c'hai l'anca Te c'hai l'anchissima Io anch'issima Vai andiamo in free mode Io anch'issima Oddio non mi segna i puntini Ma neanche a me Adesso si Adesso si